Inizio prima ripresa E a scrispia Ricolo E a scrispia Di un'altra E a scrispia Rents Troc grazie 2 2 3 3 3 4 3 5 5 6 7 5 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 13 14 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 21 21 22 22 22 22 22 23 23 24 24 25 25 26 25 25 23 25 26 26 25 26 25 26 26 27 28 27 29 28 28 29 29 29 30 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Grazie.